Buon salvoni appassionati di Football Manager, io sono Alessandro, l'Uklus Game su YouTube e su quella piatta forma viola dove vado in live tutti i giorni domedì al venerdì da 19 e sabato e domenica dalle 17 e questo è un video experiment su FM22 ma che riguarda la stagione 22-23 perché ritorna il format dei versus. Magari vi ricorderete quando l'abbiamo lanciato l'anno scorso quando si era aperta la possibilità per la panchina del Barcellona e la scelta era a un certo punto tra Chavi e Perlo. Sì perché con questa lotta c'è una panchina che traballa ed è quella di Massimiliano Allegri, un ritorno che non è stato sicuramente di fiamma, al momento è uno degli allenatori più memati, l'Allegri Out come hashtag sta spopolando sui social, stiamo parlando di una squadra che fa fatica a creare gioco e con i giocatori che ha è imbarazzante, è imbarazzante vedere che è uno dei giocatori che riesce a dare un po' più di spinta e Miretti, un giovane che dovrebbe essere aiutato da tanti altri, è vero per carità che il mercato pur essendo stato importante è vittima attualmente di tanti infortuni, è vero anche che la partita con la Saranitana diciamo è un po' particolare, c'è anche la questione VAR ma non voglio entrare in queste situazioni, al di là di tutto sta di fatto che è inaccettabile vedere una squadra con quel tasso tecnico almeno sulla carta giocare in quella maniera, o meglio non giocare perché stiamo parlando di una squadra che fa fatica a portare il pallone in avanti, sembra una barraonda, non sa solamente se andare a destra, sinistra, al centro, vanno dove si apre un barco, ma è questo il modo di giocare a calcio, è vero che si deve vincere e credo è quella la cosa più importante, è vero che conta semplicemente portare a casa i tre punti, ma non ci sta neanche quello, al momento l'unica forza di Allegri è semplicemente non aver perso una partita in serea, in questo universo parello quindi siamo proprio fermi nella sesta giornata dove la Juventus ha proprio dieci punti, via Allegri vediamo cosa accade se cambia il timoniere della Juventus. Ovviamente non me ne voglia Max, io spero che si riprenda il prima possibile azzeccando una partita e poi cambiando completamente l'arco della sua stagione, magari proprio col Benfica potrebbe riprendersi alla grande e far rullare un'altra volta il motore Juve, ma al momento l'esperimento ci sta e c'è anche una variante. Questa volta però lo estendiamo a quattro personalità che dovranno convincersi a prendersi la panchina della nationalità italiana, chi vincerà questo versus? Scopriamo! Per rendere più realistico l'esperimento ho simulato più e più volte l'inizio della stagione 22-23 affinché si avesse una condizione quanto meno richiamabile rispetto a quella che abbiamo nella realtà, la Juventus quindi è a metà classifica, non a posizione, con gli stessi punti della realtà ovvero dieci e la stessa distanza di quattro punti dalle capoliste Milan e Napoli. Il mercato è chiaramente aggiornato alla stagione 22-23 ma addirittura è anche bloccato quindi nessuno potrà fare ulteriori acquisti per cercare di avere proprio una condizione realistica, abbiamo fatto sì che le squadre avessero proprio le rose che hanno nella realtà. Se volete però partire anche voi dalla stagione 22-23 con FMB22 guardate questo video dove vi ho spiegato assolutamente tutto come avere il mercato aggiornato, i prestiti aggiornati e persino appunto la data di partenza aggiornata. L'era di Allegri finisce qua perché da qui in poi metteremo i nuovi allenatori ma attenzione abbiamo anche aggiornato le altre panchine, anche quelle appunto continentali con Potter per esempio già al Chelsea. Il primo allenatore ad essere testato sarà Pocettino, si parlava di lui anche di un possibile approdo come allenatore da Juventus qualche tempo fa, poi non se ne fece più nulla. Reputazione continentale forse gode anche di una considerazione maggiore di quello che meriterebbe considerare i suoi risultati, potrebbe essere un elemento di discussione. Formazione preferita 4-3, personalità professionale cosa fa? Tende a prendere i giocatori under 24, attenzione quindi ama giocare con giocatori che magari sono ancora in fase di crescita ma che hanno già sviluppato i loro tratti distintivi. Poi non usa il portiere titolare nelle coppie nazionali, usa la trappa del fuorigioco, cerca le sue posizioni laterali, parte palla della difesa e usa il pressing intenso. Diciamo che è un estimatore di quelli che sono i concetti moderni del calcio. Analizzando sempre la sua scheda ricordiamo che le qualità di allenamento non sono quelle di allenatore ma sono quelle di facente e funzioni di preparatore, ovvero lui durante l'arco della settimana può seguire quelli che sono gli allenamenti su FM che riguardano il possesso, perché la psicologia, l'abbiamo sempre detto, è il possesso e poi ovviamente la tattica. Dopodiché per quanto riguarda le caratteristiche mentali abbiamo dei valori molto alti, conoscenze tattiche 11 però molto basse, un po' come Allegri ha una scheda che lo penalizza un po' nelle conoscenze tattiche, ma attenzione perché comunque mentalmente riesce a trovare sempre il modo di stimolare i suoi calciatori. Andiamo a vedere anche quali sono le sue caratteristiche per quanto riguarda CIPA, 158 come abilità attuale, 175 come potenziale, quindi può ancora crescere. L'editor ci servirà proprio per capire anche come si evolveranno gli allenatori in questo esperimento. In questa primissima stagione la Juventus fa solamente due acquisti, entrambi a gennaio, entrambi dalla Premier League. Il primo è Sanchez, un difensore centrale sicuramente prestante a livello atletico e fisico, molto adatto a giocare con difesa alta, come amo a giocare Poggettino, però manca di alcuni fondamentali per giocare in un team veramente molto forte. Colpo di testa, marcatura in tutte posizioni per esempio, sono un po' bassini. Altro elemento acquistato, Lindelof, ancora una volta un difensore centrale, evidentemente è lì che Poggettino crede che ci sono delle mancanze, anche secondo me la Juventus dovrebbe acquistare un difensore centrale, ma anche un terzino sinistro perché Alexandro non è più un giocatore da diversi anni. Per quanto mi riguarda, entrambi i giocatori vengono alla Juventus per un totale di 58 milioni spesi, zero invece le cessioni. 4-3-3, quindi confermato per Poggettino con addirittura alle volte quadrato alla destra. Attenzione perché il golador non poteva che essere lui Dusan Blavich, mentre per quanto riguarda il ragazzo che fa più assist è Chiesa, ma attenzione perché sempre Blavich non ne ha fatti mica pochi. Come gioca la Juventus di Poggettino, una squadra che crea tantissime occasioni, ma attenzione, realizza poco, bisogna migliorare la procedura di realizzazione, ma è una squadra che sfrutta molto le fasce, no? Abbiamo detto, tante sovrapposizioni e qui si vede tanti cross, ma soprattutto anche tanti dribbling poi effettuati. Quello che però proprio non va sono i palloni persi, possesso palaperso prima addirittura in tutta la Serie A, questo aspetto va decisamente rivisto. Per corso positivo la Juventus in Champions, passa il Girona, arriva a giocarsi anche gli ottavi, supera Sporting, però si ferma in semifinale contro il Bayern Monaco, però possiamo dire che è andata ben oltre le aspettative. Malino invece in campionato dove si ferma in quarta posizione, diciamo che è proprio il minimo sindacale per essere confermati, allenatori della Juventus, visto che è considerato che se non vai in Champions perdi un sacco di soldini. Attenzione perché dopo la sua prima annata Poggettino migliora la sua scheda, il suo CA passa da 158 a 160, due punti in più. Poggettino non riuscirà neanche a terminare il secondo anno con la Juventus, già esonerato il 3 febbraio 2024, con lui la Juventus non ha vinto nulla. Test numero due con Thomas Duckel, che si sente sulla panchina della Juventus, estimatore di Raph Ragnick, reputazione altissima anche per lui. e attenzione, conoscenze tattiche 20? Beh, allora mi aspetto un hype incredibile. Questo porterà finalmente la Coppa dei Campioni, sicuramente a Torino in questi tre anni di esperimento. Formazione diversa completamente rispetto a quella di Poggettino. Abbiamo una difesa a tre, che vedremo all'opera. Non si affida ai cacci piazzati, non usa la marcatura a uomo. Questa personalità perfezionista, dà un sorriso smagliante però, si differenzia da Poggettino per tanti aspetti. Ad esempio, non sfrutta i giocatori molto giovani, anzi, predilige quelli esperti e preferisce disporre i giocatori nelle loro posizioni naturali. Quindi non è un Ancelottiano che prova magari a mettere un pirlo da un'altra parte. Attenzione però, perché anche lui è uno che ama utilizzare il pressing, ma soprattutto anche per recuperare il pallone. Quando si avvicina poi nell'area avversaria, invece, utilizza più raziocinio. Quindi non è uno che piglia e riparte in continuazione. Una volta arrivati appunto lì, nella zona calda, preferisce farlo con il ragionamento, entrare con i tempi giusti, con qualità. Diamo uno sguardo anche ad abilità attuale e potenziale 169, base di partenza perfetta per Tuchel, ma già arrivato al cap di 171. Strano, più basso il PA di Tuchel rispetto a quello di Poggettino. Questa cosa va rivista l'anno prossimo su FMD3, eh? Primo giugno 2023, si conclude il primo anno di Thomas Tuchel e la prima notizia è che viene venduto a Bremer in questo mercato per ben 41 milioni e mezzo. L'allenatore tedesco però conosce benissimo Germania e Inghilterra, fa due acquisti a gennaio, il primo è Lucas Hernandez come difensore sinistro, che viene pagato la bellezza di 63 milioni dal Bayern Monaco. Bremer verrà comunque rimpiattato dal signor Nathan, anche con grandi doti, soprattutto atletica e altezza forse un po' bassa, sa di fatto che comunque ha messo a posto forse i due elementi più deboli della squadra, ma purtroppo ha venduto Bremer che io non avrei fatto. Questo arriva per 31 milioni. Certo che se poi devi giocare con la difesa a tre forse è meglio che te lo tieni Bremer anziché mettere Danilo al centro. Hanno giocato comunque col 3-4-2-1 con, spero lo catelli dietro e Di Maria davanti perché mi piange il cuore a vedere Di Maria così in basso, ma attenzione, finalmente fa tanti gol Vlauric, qui evidentemente non sarà infortunato, 20 reti. Mister Venti in conoscenze tattiche, riesce a fare peggio di Poggettino, si ferma addirittura già ai quarti dopo che era stato strafortunato con lo Sporting agli ottavi e perde proprio con la sua ex squadra il Chelsea. No! Contro Acciughina! La vendetta di Max Allegri che si va a compiere così. Tuchel sconfitto da Allegri con la sua ex squadra. È proprio vero che al peggio non c'è mai fine, addirittura arriva quinto in Serie A, fa peggio di Poggettino, diciamo subito out, noi gli facciamo fare altre stagioni alla Juventus, ci sono stati allenatori esonerati per molto meno. Test numero 3, probabilmente il sogno di tanti tifosi juventini in ritorno di Zizou a Torino. Attenzione, per il prossimo anno spero venga rivista la condoscenza tattica perché è vergognoso dare 12 a 1 che ha vinto 3 Coppe dei Campioni di fila. Comunque, personalità risoluto, con grande stima per Carletto, Raul, Giorcaef, Didi e anche R9. Stile tattico preferito, tiki-taka verticale, formazione preferita, 4-3-3, però non ha tante skill nel suo portfolio. Diciamo che ama soprattutto chiudersi a protezione del vantaggio, molto allegriana come cosa, però di base, permette grande libertà creativa, quindi non tarpa le ali ai suoi calciatori. Per Zinedin Zidane, solamente due operazioni a gennaio, la prima è Rugani, che se ne va alla Lazio. L'altro invece è Valentin Rozier, acquistato per circa 25 milioni, abbiamo a che fare con un terzino di spinta sulla fascia destra, che è capace tanto a difendere, tanto anche a ripartire, guardate che doti mentali pazzeschi. 4-3, quindi confermato con Paredes, Locatelli, sicuramente titolari, poi ogni tanto qui c'è McKennie al posto di Pogba, di Maria Chiesa sulle fasce, Vlaovic, chiaramente punta, la difesa è quella che ci saremo tutto sommato aspettati. La Juventus di Zidane si contraddistingue soprattutto per un posto palla molto alto, quasi il migliore della Serie A. E di fatti la squadra di Zidane crea veramente tantissime occasioni, expecti di gol migliore in assoluto, però poi, se andiamo a controllare i gol fatti a partita, sono leggermente più bassi di quelli del Milan, che è stato molto più cinico di Zidane. Attenzione però, perché l'arma serieta del francese sono le palle inattive, 9 gol su punizioni di prima e ci sono anche il primato sui calci di rigore, percorso Champions, veramente clamoroso, fa fuori Bayer, Chelsea e anche Inter. Non so come l'Inter sia arrivata in semifinale, ovviamente preferirei vedere tutte le italiane andare bene, ma fatico a credere che l'Inter quest'anno arrivi in semifinale. E in finale cosa fa? Purtroppo perde contro il Paris Saint-Germain. Curioso, visto che il Paris effettivamente è la squadra che a lungo ha sognato anche un Zidane in panchina. Chissà, prima o poi arriverà chi è che va a segnare? Sua maestà, Lionel Messi. Questa Juventus finisce anche in finale di Coppa Italia, però perderà contro la Roma per due reti a una. Zizupro riesce a vincere il campionato di Serie A con 81 punti e tornato il DNA Juventus. Si vince in Italia e si perde la finale di Champions League. Tanti soldini spesi per la squadra 23-24 da Juventus a partire da Joe Gomez, da Liverpool, poi abbiamo anche Vitigni dal Braga, punta che vi straconsiglio davvero molto interessante. Dopodiché ci sta anche Francisco Trincao, elemento che ormai conosciamo da tanto tempo, altro giocatore straconsigliato. Nonostante però l'ottimo mercato la Juventus non riesce a replicarsi e si ferma in quarta posizione in Serie A al secondo anno di gestione di Zidane. Attenzione perché si porterà a casa la Coppa Italia con la vittoria di 1-0 sull'Inter. Un Inter che tra l'altro ha confermato Lukaku quindi lo hanno pagato vediamo un pochino. Sì, lo hanno preso in prestito chiaramente la V2-23 ma poi lo hanno acquistato per 83 milioni. Zidane ha vinto la Coppa dei Campioni sia da giocatore che da allenatore e qui si vede veramente la sua capacità di arrivare fino in fondo alle competizioni. Vittoria clamorosa nel girone a punteggio pieno poi fa fuori porto. Parisa Germain quindi la vendetta che si va a consumare. Manchester City battuto anche in una semifinale di Coppa dei Campioni purtroppo però in finale si becca il Liverpool. E lo batte 2-1 vittoria clamorosa della Juventus sul Liverpool ritorna la Coppa dalle grandi orecchie a Torino. Questa invece è la scheda di Zizou al secondo anno dove il suo CA è aumentato vediamo anche di quanto di ben 9 punti da 160 e passato a 169. Purtroppo però per i tifosi della Juventus finisce qui l'idilio con Zizou perché si dimette da allenatore di club e diventa il nuovo commissario tecnico della Francia. Il quarto test a sorpresa è Alex De Piero che da poco ha preso anche il patentino per poterlo far diventare allenatore ho dovuto sbloccare la sua figura su FM quello che ho ritoccato io è solamente la capacità chiaramente di fare l'allenatore perché altrimenti non sono questi i valori visto che lui normalmente è proprietario di una squadra di calcio la 10FC appunto squadra nel continente americano ma qui l'abbiamo fatto diventare appunto allenatore. Non sapevo che odiasse Ibrahimovic Gheran e Zaghi potevo capire il discorso Zeeman ma gli altri francamente non ne avevo minimamente idea ho fatto una scheda non troppo esagerata ho puntato ad attacco e tecnica come facente funzione di preparatore ho potenziato il valore con i giovani perché lui in un'intervista che ha fatto ha detto che si ispira molto anche a Trapattoni perché lavorava con i giovani e soprattutto anche ad Ancelotti per il modo di discutere con lo staff ed è per questo che ho messo abilità con lo staff 15 dopodiché ho fatto anche gestione personale 16 sempre per il discorso appunto di rapportarsi a livello umano ma diciamo che a livello umano del Piero ha sempre dimostrato di essere un grande signore motivazione alta terminazione alta ma la sua scheda non è assolutamente altissima se noi andiamo a vedere appunto il suo CA 133 per dire è più basso di quello di Pirlo è più basso di quello di Gattuso PA invece 175 per la formazione preferita so che lui si ispirava molto anche a Klopp come filosofia ecco perché ho impostato il 4 e 3 come formazione preferita lo stile tattico Tiki Taka Verticale deriva da elementi che vanno a mixare diciamo il Game Press con comunque elementi relativi alla componente di libertà creativa anche perché lui è stato ovviamente un ex fantasista grandissimo trequartista quindi diciamo che mi sembra appropriato provare a inserire per lui il Tiki Taka Verticale 0 ci sono importanti ma due acquisti uno è Iago Aspas ormai in là con l'età però tecnicamente e mentalmente molto forte giocatore che può dare qualcosa a reparto offensivo anche in termini di conoscenza e tutoraggio ma la vera Stella è Calvin Phillips prelevato quindi da Manchester City con qualità assolutamente devastante a livello mentale tecnico e anche fisico giocatore totale a centro campo e pensate che non sono costati neanche tantissimo 36 Calvin Phillips 6 milioni Aspas la Juventus in real life è un sacco di tempo che non riesce a superare neanche gli ottavi con Del Piero riesce a superare sì gli ottavi ma si fermerà già ai quarti diciamo che le due sfide sono state veramente ostiche Marse United e Bayern Monaco attenzione però perché Del Piero riesce a vincere la Coppa Italia contro l'Inter 2 a 1 con doppietta di chiesa nonostante però gli 84 punti della Juventus purtroppo non si vince lo scudetto molto pirliana come stagione quella di Del Piero Juventus veramente molto cinica ma purtroppo in grado di perdere soprattutto una squadra che sbaglia tantissimo i cross 18esima come cross riusciti in Serie A nella seconda stagione del Piero alla Juventus come aggiatore viene venduto Niccolò Rovella per appena 9 milioni viene però acquistato Cavigalano come terzino sinistro per 27 milioni e mezzo anche la seconda stagione è priva purtroppo di successi si perde Super Coppa Italiana Coppa Italia Champions League però si arriva ai quarti che non è un risultato scontatissimo in campionato se arriva solamente i secondi a 5 punti dalla capolista sta diventato di un'esperienza alla Ancelotti alla Juventus solo che qui ci sarà il litofine con il terzo anno di Del Piero a Juventus dove si vince lo scudetto con 84 punti gli stessi al primo anno questa volta però spingono di benoneate e Del Piero si porta a casa lo scudetto e persino farà il bis 2-0 sulla Roma in finale di Coppa Italia quindi double per Del Piero al terzo anno alla Juventus il mercato dell'ultima stagione è veramente spaziale sono arrivati super giocatori Fabian Ruiz dal Parisian Man per 60 milioni Gonzalo Imiasio dallo Sporting difensore centrale che vi straconsiglio Zabarni altro difensore che cresce veramente tantissimo Wonderkid di FM 22 per 36 Mesler Wonderkid in porta anche qui colpaccio che vi straconsiglio cresce tantissimo Cristiansen difensore centrale del Barcellona anche qui prelevato per 3-3 milioni Malen altro bagatone del Dortmund che qui arriva per 27 milioni di cash poi ci sono anche i bonus Yusuf Demir altro Wonderkid prelevato chiaramente a rapidi piena e poi tanto per non farsi mancare nulla anche Kim Inghie che devo dire sta sorprendendo un po' tutti quanti 12 milioni e mezzo dal Napoli scopriamo anche come ha giocato la Juventus in questi tre anni sapevamo che avrebbe sfruttato il 4-3-3 con il Piero la primissima stagione è assolutamente come ci saremmo aspettata ma la stagione successiva vediamo come Cavigalan prende posto come terzino di sinistra poi abbiamo nella 24-25 diversi innesti tra cui per esempio Fabian Ruiz Acero Campo Kuluseski che non è stato riscattato e Kristiansen con Zabarni che insieme insomma a Mesir fanno un reparto difensivo completamente rinnovato questa è la stagione ripeto finale di Alex Del Piero come allenatore della Juventus nella remota ipotesi quindi che andassi via a Lega ma si fanno gli scongiuri si spera chiaramente resti e vinca tanti trofei alla Juventus forse la scelta migliore potrebbe non essere quella di Tuchel che andrebbe messo da parte forse bisognerebbe andare l'inginocchio a pregare a Zidane magari di ritornare alla Juventus ma questa volta come allenatore attesione anche Del Piero perché stuzzica l'idea stuzzica attesione l'idea di Tuchel che stuzzica